No, video Ciao Franci Ciao Franci, questo è il trucco per andare a un matrimonio Siete che zoomiamo sull'occhio Siamo andati sul bronzino Argento, no, argentato è un corno Bronzino dorato Arancioncino Un po' arancionino Pelle super extra luminosa Aprici gli occhi Dentro verde Ah, e dentro c'è il verde, sì E basta Speriamo che duri questo tanto Poi ce lo fai sapere se dura Ti porto una foto con la tutina a braccio della morte Facci la foto, per forza La pubblichiamo anche l'outfit L'outfit Cioè se non li pubblichiamo i tuoi di outfit Penso che non pubblichiamo nessuno Siamo Enzo e Carla e Clio Tutto insieme Tutto insieme Un po' purri Ti pubblico? Mi pubblichi? Certo che ti pubblico? Non ti pubblico? Pubblicami Ok Niente Un bacione alla Franci Farò sapere come è andata Un bacio Ciao 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 ciao